Gregorio, è arrivata la nave Aida Blu con quanti passeggeri? Sono 2300 passeggeri tedeschi e la nave è molto piena perché ci sono molti turisti, soprattutto bambini, che durante questo scalo sono presenti in grande quantità. Quindi famiglie che hanno deciso di fare la crociera? Sì, infatti diciamo che la formula è un po' diversa rispetto alle altre navi che usualmente arrivano a Crotone. La Aida è una compagnia del gruppo Carnival dedicata al mercato tedesco e dedicata soprattutto a una fascia media della popolazione e porta grandi numeri qui in città. Questi turisti che sono arrivati, tra l'altro ne ho visti passare alcuni adesso, hanno deciso di stare al mare? Oggi gran parte dei passeggeri sono in giro appunto per il mare, 500 sono in escursione, sono andati anche alle castelle nella riserva marina, ma quasi un centinaio sono nei lidi crotonesi presso i quali abbiamo organizzato la giornata. Insomma c'è la voglia di godere quella che è la nostra terra, la nostra città e soprattutto di scoprire la bellezza del nostro mare? Diciamo che è fondamentale mostrarsi al meglio, da parte nostra stiamo riscontrando comunque sempre degli esiti positivi ed è fondamentale per avere un proseguo, infatti già comunque abbiamo un 2024 che sta profilando in modo positivo rispetto agli andamenti e tutto ciò dipende appunto dalla semina che facciamo scalo per scalo. Io ti faccio una battuta, diciamo, una provocazione, tenendo conto che sono tanti turisti che in questo anno sono arrivati e che arriveranno ancora per qualche mese con questa stagione estiva. Ma se ne accorgono un po' i nostri concittadini, le istituzioni, tutti quanti dell'impegno di Alfa 21 ma nello stesso tempo del fatto che questi turisti portano anche economia? Diciamo che la domanda è provocatoria e serve una risposta diplomatica, nel senso che noi ce la mettiamo tutta da tanti anni, siamo al quindicesimo anno, a settembre faremo appunto un compleanno perché c'è l'anniversario del primo scalo che è stato seguito a settembre appunto del 2008. Diciamo che si potrebbe fare sicuramente di più, servirebbe un raccordo maggiore con le istituzioni dal livello regionale a scendere giù. Stiamo notando da parte dell'autorità di sistema portuale una maggiore dinamicità rispetto agli sviluppi del porto che sono fondamentali nel lungo periodo perché oggi il porto risente di limiti strutturali che sono legati ai fondali, nel senso che le grandi nave superiore a quelle di oggi non possono entrare. Oggi è la nave più grande che può entrare, è una nave da quasi 60.000 tonnellate di stazza per cui l'obiettivo dovrebbe essere di porsi un approfondimento dei fondali da qui a qualche anno, altrimenti non possiamo avere uno sviluppo ancora più forte rispetto a quello che abbiamo avuto finora.